La sicurezza sul lavoro, un valore che va insegnato a partire dai banchi di scuola, che i ragazzi diventino imprenditori o lavoratori. Per questo i giovani imprenditori di Confindustria e i giovani del Lance di Bari e Bat hanno promosso, nell'ambito della settimana nazionale della cultura d'impresa, un incontro presso gli istituti industriali e per geometri fermi e nervi di Barletta per parlare con i ragazzi di quanto per loro deve essere importante imparare a rispettare la sicurezza sul lavoro. Possiamo dire che questo tema caratterizza proprio il profilo delle società moderne perché anche le linee guida che riguardano gli istituti tecnici hanno inserito nel documento questa tematica proprio perché soprattutto per quanto riguarda il primo biegno nel discorso cittadinanza, per il secondo biegno per quanto riguarda proprio la sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza dell'ambiente di lavoro. Dobbiamo far capire ai ragazzi che il valore della sicurezza è un valore essenziale, importante, che deve sorreggere ogni nostra attività e deve accompagnarci per tutta la nostra vita lavorativa. E quindi dobbiamo necessariamente intervenire qui dove si formano i futuri lavoratori del domani. L'appuntamento rappresenta il primo tassello di un workshop del forum RSI di Confindustria Bari e BAT che in due giorni, con la collaborazione dell'Istituto Agronomico Mediterraneo e il sostegno di Ubi Banca Carime e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, promuoverà il concetto della responsabilità sociale attraverso diverse modalità, ma sempre puntando sul coraggio del cambiamento. Uno degli obiettivi è quello di cercare di sviluppare e infondere la cultura nei giovani, perché vediamo i giovani come futuri manager, futuri imprenditori, oltre che lavoratori delle nostre imprese. Il focus principale è appunto quello di coltivare quella che è la responsabilità sociale, partendo da quello che è la nuova classe della nostra società e quindi partendo appunto dai giovani.